Un giorno importante perché tutte le manifestazioni che ci avvicinano alle associazioni sportive e in generale ai giovani sono comunque uno dei nostri punti di partenza. Da qui, in questo luogo particolare dove ci sarà questa bellissima mostra che per due anni ricorderà alla città e a tutto il dintorno cosa vorrà dire, è un momento particolarmente importante. I ragazzi si dovranno avvicinare, questo è il nostro obiettivo principale, da qui al 6 febbraio che rappresenterà un punto di partenza perché mancheranno esattamente due anni, c'è un po' di lavoro da fare e nel frattempo speriamo che ci siano alcuni puntini sulle i che ancora mancano. Per quanto ci riguarda in provincia siamo tranquilli perché gli impianti che devono essere costruiti in Val di Fiemme sono finalmente in regola da un punto di vista della tempistica.